pensate a un quartiere vuoto adesso proviamo a migliorarlo creiamo centri per il gioco spazi per l'infanzia e servizi di doposcuola organizziamo gruppi di acquisto solidale e corsi di educazione popolare rivolti a cittadini di ogni età pensate a una società in cui siete soli adesso proviamo a cambiarla attraverso servizi di assistenza per i nuovi poveri e per i migranti sviluppo di progetti di solidarietà pace e lotta contro le mafie con la promozione della raccolta differenziata delle energie rinnovabili e la difesa dei beni comuni pensate a un mondo senza relazione tra le persone adesso pensiamone uno diverso in cui tutto sia comunità corsi di teatro di musica attività ricreativa concerti balli turismo responsabile nuovi modi di produrre cultura e informazione insieme a tante altre realtà tutto questo è l'arci un'associazione che viene da lontano erede delle prime forme di aggregazione tra operai e contadini come le società di mutuo soccorso i circoli operai e le case del popolo i nostri principi sono scritti nella costituzione democrazia integrazione promozione sociale e diritto al tempo libero oggi puoi trovare l'arci su tutto il territorio italiano e toscano circoli spazi e associazioni attraverso cui tutti possono decidere come impegnarsi a migliorare la propria vita e quella della comunità che ci circonda senza distinzioni di età genere o provenienza ti aspettiamo